Oh mio Dio, guardalo! È convintissimo! È felicissimo! È felicissimo! Pafam, pafam, pafam! Bisogna essere tirchi nella vita, quando è tutto gratis bisogna impegnarsi come ci siamo impegnati. Ok, guarda che ci sono quasi, eh! Vai, vai, vai! Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! E quindi? E quindi? Adesso ce la regala! Ce ne stiamo andando via di casa! Vedi che c'è io a Rom! Stiamo andando via, ormai siamo degli youtuber grandi, ce ne stiamo andando via! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Steph! E che stai giocheremo a Youtubers Life? I primi due episodi vi sono piaciuti un sacco e ne siamo felicissimi! Pensa che il primo ha raggiunto quasi 100 like e superato le mille views, ma ti rendi conto? È tantissimo! È davvero tantissimo! Non siamo mai riusciti ad andare così bene, siamo felicissimi del supporto che ci state dando e quindi oggi andiamo alla fiera! Assolutamente sì! Ci dobbiamo vestire perché è un evento bellissimo e ci prepareremo a puntino per andare alla fiera! Esattamente! Cosa ci mettiamo? Torniamo a soggiare i nostri capelli perché abbiamo quel capellino da troppo tempo! Sì, scusa, andiamo a poi quei capelli così belli, scherzi, non li vuoi mostrare! Che ci fa la mamma poi lì dietro? Secondo me ci vuole dire qualcosa, però noi ci stiamo vestendo e quindi non ci sta interrompendo! Mamma, aspetta due secondi! Guarda la fiera che figata! Ma possiamo giocare a questi giochi? Allora, secondo me sì! Però guarda, qua stanno facendo delle interviste, vedi? No, voglio essere intervistato anch'io, scusa, Steriniki deve essere... Allora... Se raggiungiamo... Io stavo continuando a guardare lei, se facciamo uno score di mille punti ci regalano la console? Allora impegnati, scusa! Ok, ok! Allora, una cosa regalata è sempre meglio di una cosa comprata! No, scherziamo, cioè diventiamo gli youtuber più pro perché abbiamo la super console! Ok, 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 dobbiamo massacrarli! Deve impegnare! Ha detto mille? Mille è tantissimo, siamo solo a duecento! E tanti... Ok, no, 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 trecento, dai! Ok! Impegnati che ce la dobbiamo fare! Sì, 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 sì! Quando le cose sono gratis bisogna sempre impegnarsi! Guarda come sembra c'è adesso! Bisogna sei tirchi nella vita! Quando è tutto gratis bisogna impegnarsi come ci siamo impegnati! Ok! Guarda che ci sono quasi, eh! Vai, vai, vai! Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! E quindi? E quindi? Adesso ce la regala! Ok, vedi? Possiamo... Ok, ok, ok! E reclamiamo il nostro premio! Ah, però la paghiamo! Questa è una furbata incredibile! Perché dopo tutto lo sforzo che fai, fai ormai... Ma quanto la paghiamo, scusa? No, costa solo trenta e abbiamo centocoranta! Ma forse ci dà lo sconto o no? Può essere! O forse la potevamo ottenere solo facendo il punteggio! E vabbè, magari dicendo, non la vendiamo a giocatori scarsi che sennò poi ci fanno fare brutte figure! Ah, dici? Penso che sia così! Comunque il nostro tempo alla fiera sta finendo! Ok, ok! Ma perché dura così poco? Solo cinque minutini! Perché? Ci siamo fatti una console! Io adesso non so... Però non abbiamo comprato nessun gioco per la console! Vabbè, forse... Penso che li potremmo prendere al PC, no? Perché ci abbiamo sempre gente in mezzo in casa? Cioè, non è possibile! Perché è la ragazza che ci ha invitato alla fiera, scusa! Ok! E quindi? Cosa vorrebbe? Vuole diventare la nostra conquilina? Vuole andare a vivere assieme a lei! Cioè, molliamo nostra madre e andiamo a vivere con lei! Ma magari sì! Così non ci stressa più per studiare! Dobbiamo pagare due mesi e ci costa 160 dollari! No, io lo voglio fare! Tu lo vuoi fare? Sì! Magari è divertente! Magari è divertente! Ma siamo giovani comunque! Ma stiamo rilasciando la mamma, poveraccia! Poverina, guarda! È qua! È tristissima! Tutta fiera di noi perché studiamo, anche se poi andiamo alle fiere! Però è contenta di noi e ne la stiamo abbandonando! Ci stanno proponendo una nuova compagnia telefonica! Come quando sei Vodafone e ti chiama la Wind! Scusa, vieni dalla mia compagnia! 20 dollari e abbiamo la connessione più veloce! Io la prenderei! Ci mettiamo una vita a caricare i video! Sì, dai! Scusa, ma è sempre meglio! Ok! Ok! Vediamo adesso poi come andrà caricando i video! Spero che sia molto più veloce! Spero che sia molto più veloce! Tre giorni su quattro non funziona! Andiamo a spaccare tutto, guarda! Gli spacchiamo la faccia, guarda! Allora, il prossimo esame quando è? A fine mese? Il prossimo esame è il 28 perché a febbraio dura meno! Ci siamo preparati decentemente! Vedi, siamo qua! Io direi, facciamo un video, dato che stavamo perdendo qualche iscritto perché non avevamo più video! Facciamo un video e ci mettiamo a studiare a Bumbetta! Assolutamente! Proviamo a prendere la A! Siamo andati un attimo alla fiera e già gli iscritti ci hanno abbattato! Prendiamo la A! Ok! Assolutamente! Dai, le C io non le accetto più, scusa, no? Esattamente, allora, cosa facciamo? Fammi vedere cosa abbiamo, abbiamo pochi giochi, dovremmo comprarne altri! Allora, ho perso interesse in Super Mario, non so perché ma non ne frega più nulla! Vabbè, questo è ancora al 100%! Facciamo questo! Io direi che facciamo questo! Ok, va bene! Assolutamente! Chissà poi quando sblocchiamo i nuovi tipi di video che possiamo fare, perché al momento possiamo fare solo gameplay! Esatto! Diamo un bellissimo titolo al nostro video! Ok, ok, allora! Come sempre, la nostra fantasia è proprio esplosiva! Esplosiva! Eh, cambiamo appartamento! Ma non c'entra niente col videogioco! Eh, perché ne parliamo mentre giochiamo! Ok, dai, sì, va bene! Vero? Un bait click più grande... Cambiamo casa, fa... Cambiamo casa, sì! Un bait click più grande di non so che cosa, ma va bene! Noi comunque nel video ne parliamo, quindi non è un bait click! Ma come stavi... Come? Non lo so! Allora, io qua comunque ancora non ho capito come si fanno i risultati migliori, quindi continuiamo ad andare un po' a casaccio! Ma noi cerchiamo di fare... Secondo me però è questo! Perché, vedi, qua c'è il simbolo come se fosse appunto l'inizio del video! E infatti, vedi, ho azzeccato! Quindi sto capendo un pochettino! Ma, infatti, dobbiamo cercare di fare la scelta che ci sembrerà più... Ma è semplicissimo, basta che guardi il simbolo che ti chiede qua e metti lo stesso simbolo qua, c'è la cosa più semplice... Ma siamo ritardati, noi leggevamo... Ok... Vedi? Cioè, devi soltanto comparare le figurine... È fatto! E noi che, capito, ci mettevamo anche lì a pensare, ma questo tipo di commento con questa situazione... Ok... Siamo fenomenali come sempre! Bravissimi! Non l'aveva capito nessuno! Secondo me non l'aveva capito nessuno! Non saprei! E non è... Non ne sono così sicuro! Comunque, guarda! Allora... Vabbè, edita prima il video perché... Ci chiamano! Ormai siamo troppo grandi come youtuber, abbiamo sempre richieste! È impossibile! Ci sta chiedendo comunque... La richiesta che ci avevano sempre fatto! Lo accettiamo, lo accettiamo 150 dollari per fare questo gioco, lo facciamo sempre! Edatto, ci dà il gioco e noi lo registriamo per lei, visto che non è capace di registrare ed editare, imparare no, vero? No, troppo faticoso! Troppo fatico! L'edit non esce un granché questa volta, però ci accontentiamo, quindi lo lasciamo così! Ma hai visto se la pubblicazione del video richiede meno tempo? No! Con la connessione non abbiamo fatto... Mi sono dimenticato di guardare! Non abbiamo fatto un paragone! Cavolo, hai ragione! Mi sono totalmente dimenticato che abbiamo preso la nuova linea bellissima, ci hanno dato un nuovo gioco! Eh, è la ragazzina! Eh, voglio vedere qual è! Vediamo! Cosa ci ho dato? Planet Wars! Cutter 2! È un gioco di pirati! Uh, belli pirati! Mi piacciono! Io non vorrei portare un gioco di pirati nel canale, ma non escono mai, quindi sono geloso che lui lo può fare! Ma nel nostro canale reale! Eh, sì, 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 quello intendevo! Non escono mai i giochi decenti di... Io vorrei essere un pirata! Ecco qua! Mi piacerebbe troppo, vedi? Se fossi nato in un periodo diverso sarei stato un pirata! Andiamo a studiare, va, mentre gli ci stessi mente! Blocca anche le carte nuove, scusa! Sì, hai ragione! Così abbiamo più possibilità di fare un video migliore! Ok, ok! Abbiamo studiato tantissimo, ovviamente, ogni volta che facciamo qualcosa perdiamo iscritti! Quindi è arrivato il momento di fare il video che ci aveva chiesto di fare la nostra amica! Finalmente si fa il gioco dei pirati! Sei pronta? Sarà bellissimo, sarà bellissimo! Guarda, questo video ci deve far andare, far fare un sacco di visualizzazioni, perché secondo me sarà bellissimo! Io ho pensato, ci miglioriamo l'attrezzatura, però ci hanno offerto di andarcene via da questa madre fastidiosa che si lamenta sempre e sono un po' interessata ad andare via di casa! No, il fatto è che noi anche quando ci mettiamo a studiare lei continua a sgridarci! Io non lo so perché è sempre arrabbiata questa mamma, la pirata, la piratessa! Eh, vedi, appunto, suona male in tutti i modi! Suona male in tutti i modi, quindi va bene così! Però oggi ho dedicato un titolo di gioco! Grazie, sei gentilissimo, gentilissimo! Allora, guarda come sono bravo! Intro with logo, bellissimo! Le nuove carte che abbiamo sbloccato sono queste! Esattamente! Ci devono far fare per forza un video perfetto! Poi, qua facciamo una faccia felice perché noi siamo sempre contenti e allegri di fare i video! Dopodiché, vedi, c'è questo scambio culturale qua! Fanni comment! Ti stavo ascoltando con interesse! Ti ascoltavo con interesse! E infine, per concludere, un off-topic comment! Perché stiamo finendo il video, quindi parliamo della prossima fiera! Del fatto che vogliamo andare via perché nostra mamma ci sgrida, capisci? E quindi la gente è molto interessata a sentire! E guarda, abbiamo un video a capolavoro! Allora, noi mettiamo questo così! Guarda le scene del video! Questo così! Questo così! Bim, bim, bim! Bellissimo! Comunque sì, l'upload secondo me è calato! Non mi ricordo più quanto era prima e quello è il problema! Come si dice adesso un po' che hai capito? Esatto! Mi sa che non abbiamo fatto in tempo la richiesta della tipa! Ci siamo bruciati 150 dollari! Vedi chi dice, mi filavo di te, ho fatto male a filarmi di te, aia! Ma è ubriaca! Eh no, mi sa che siamo stati noi! Abbiamo spaccato di nuovo il computer! Abbiamo di nuovo rotto il PC! Quindi, guarda, di nuovo da riparare! Cioè, non riusciremo mai a mettere da parte i soldi! Se continuiamo in questo modo! Soprattutto se sprechiamo 150 possibili soldi perché ci dimentichiamo! L'abbiamo fatta a dimenticarci! Abbiamo studiato troppo! Ma anche lei lo voleva subito il video! Però io ti dico! Cioè, la mamma che ci mette pressioni per studiare! L'amica che ci mette pressioni per fare subito il video! Ma dai, che ti costava aspettare un giorno in più! Cioè, è difficile gestire tutto! Esattamente! Comunque, guardate! Ci stiamo preparando a dovere! Stiamo facendo i secchioni! Andiamo a studiare ancora! Io voglio prendere 10 questa volta! E se non ci paga almeno 100 per aver preso 10! Quindi A! Perché mi dimentico anche in questo caso è A! Se non ci paga 100! L'abbandoniamo! Proprio la lasciamo qua da sola! Casalinga, sola, soletta! Io sai che cosa faccio? Faccio mamma, vai a fare la spesa! Cambi la serratura e non entra più! Ma non possiamo rubarle a casa sua! Certo che puoi! Perché lei non ti paga abbastanza! Ma no! Vai via mamma, tanto io guadagno più di te! Ti esagini sempre! Mamma, guadagno più di te! Abbastanza questa settimana dice! Guarda! Bellissimo! Dai, per forza dobbiamo prendere una scusa! Hai visto le views dei pirati? Finalmente ci abbraccia! Finalmente, dai! Finalmente! Abbiamo sbloccato un nuovo tipo di video! I vlog! I vlog! Dobbiamo farne uno! Dobbiamo subito fare un vlog! Guarda! Grazie mamma! Grazie! Che finalmente ci ricompensi a dovere! Finalmente se ne accorta! Finalmente! Allora, secondo me però adesso è l'ultima settimana! E se studiamo ancora leggermente prendiamo A invece che B! Quindi studiamo un altro po' e poi facciamo un vlog! Cioè vuoi andare proprio come un secchione! Vuoi studiare tantissimo! Voglio vedere se ci paga davvero di più! Quindi voglio proprio prendere A e togliermi questo dubbio! Altrimenti la buttiamo fuori di casa! No ma soprattutto prendiamo C a vita! Altrimenti perché tanto non ce ne frega nulla! Non cambia niente! Quindi pensiamo solo i soldi! Ah ok! Non basta ancora! Quindi dobbiamo studiare di nuovo! Uh è arrivato il nostro amico! Ci sta chiedendo di andare a vedere un film! Sì voglio andare al cinema! Vuoi andare al cinema! L'altra volta non siamo andati e voglio vedere come il cinema ci voglio andare! E allora? Abbiamo studiato tantissimo! Ok! Siamo a posto con i video! Guarda le visualizzazioni che facciamo! Ci hanno messo un commento negativo! Scusa! Eh ma ce lo mettono sempre! No 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 no! Scusa! Perché voi? Se questa persona è uno youtuber! Io sono Batman! Guarda chi l'ha scritto! Si è offeso perché abbiamo smesso di risponderlo al telefono! Ma questo! No aspetta! Dichiarazione di guerra! Devo dire una cosa! Questo è un commento di pura cattiveria! Perché lui ci chiamava in continuazione! Ci ha stressato giorno e notte! Siamo andati con lui al party! Perché ti ricordi che ci ha invitato al party? Sì 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 mi ricordo bene! E ci fai una cosa del genere! Marquez Marquez guarda! Sei soltanto una delusione! Sempre e comunque! Guarda! Non sei più il nostro amico! Io lo sapevo che non lo dovevamo rispondere! Guarda adesso lo cancelliamo anche dalla lista amici! Lo blocchiamo! Lo blocchiamo! Tra noi e lui non esiste più nulla! Allora andiamo veloci perché secondo me il nostro amico ci ha già mollato eh! È già andato! È già iniziato lo spettacolo! E sì! Mi sa che è già partito! Quindi cerchiamo di recuperare un attimo! Mentre che insultavamo Marquez! Cioè ma ci andiamo davvero al cinema? Te l'ho detto! Io volevo vedere il cinema! Già dallo scorso episodio sono curiosi! Oh che bellino! Ma dai puoi andare in tutti i... Guarda Marquez! Insultalo! E qui davanti a te ti sta guardando malissimo! Ma questo? Insultalo! Insultalo! Ah no ma siamo proprio andati al cinema con Marquez! È stato lui a chiedercelo? Sì! Cioè ci stiamo confondendo? Sì! Abbiamo chattato il cinema con Marquez! Sì! Abbiamo sbagliato di brutto! Non c'è la ragazza che ci ha chiesto di andare a convivere con lei scusami? Ma ci potevamo muovere! Però stavo dicendo da due ore di guardare meglio! E mi sembrava strano infatti che non ci fosse una fine dell'evento! Dobbiamo entrare in sala! Vedi che il cinema c'è? È una figata allora! C'è quello cattivissimo! No guarda possiamo posare e farci la foto! Vedi? Oh mio Dio guarda! È convintissimo! È felicissimo! È felicissimo! Guarda! Guarda! Ok! Oh mio Dio! Sediamoci! Sediamoci no? Sì! Sto cercando se c'è la ragazza che ci... Ecco lì! È quella giusto? Non lo so ma chi se la ricorda più! Sediamoci là! O forse era questa! Hanno tutti i capelli blu! Ascolta fai finta di nulla! Tu siediti e basta! Ok! Fai finta di nulla! Marquez ci segue in una maniera... Marquez sì! ...un po' preoccupante! E vabbè siamo andati al cinema con lui che pretendi lo molli da so... Guarda! Puoi guardare verso... Eh più o meno! Vabbè è un bel film! Guarda le cose che stanno passando! Dobbiamo restare qua anche noi così! Siamo più pronti noi di non so che cosa! Quindi secondo me ci va benissimo! Dai! Cioè meglio di così dobbiamo prendere A più! Eh scusa! Perché vuol più! 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 Sei sicura del più? Ok stiamo andando! Stiamo andando! Dai! Incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene! E vediamo quanti soldi ci dà soprattutto! Mi interessa più quello! Ah! Ok! Ok! Perfetto! Se avessi preferito A più ma vi va bene anche l'Ava! Benissimo! Ce l'abbiamo fatta! Mamma! Mamma! Mamma dai! Adesso ci devi dare un po' di soldi! Ok! Vedi ci stai dicendo di questa cosa dell'appartamento! Se ne vuoi andare? Mamma i soldi? Mamma! T'ha solo abbracciato! Va bene! Sì comunque anche il nostro io del futuro ci dice che... No non è capito! Allora ci ha pagato perché vedi siamo a 246 ci ha pagato una cosa come 100 davvero! E vedi che paga bene andare bene agli esami? E ce ne stiamo andando via di casa! Vedi che c'è io a Rom! Stiamo andando via! Ormai siamo degli youtuber grandi! Ce ne stiamo andando via! Io non ci credo! Io non ci credo! Quindi nel prossimo episodio ci trasferiremo di casa! Esattamente! Beh ragazzi il video piace così! Se vi è piaciuto lasciateci un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao alla prossima! Ciao ciao!